Si avvia la chiusura alla 41esima edizione della Rassegna Internazionale di Musica Classica all'interno della splendida Pieve di San Michele Arcangelo a Corsanico nel comune di Massarosa. Due gli appuntamenti conclusivi che vedranno l'ensemble d'archi d'orchestra della Toscana esibirsi domenica 28 agosto alle 21 in brani da film musicati da Ennio Morricone, Nino Rota, Leonardo Bernstein e Nicola Piovani. La 41esima edizione della Rassegna Internazionale di Musica Classica a Corsanico è stata quest'anno un vero e proprio successo. Se vogliamo fare un'analisi e un rendiconto dei concerti avvenuti possiamo dirci soddisfatti anche sapendo lo strascico e l'eredità che ci ha lasciato i due anni passati di Covid possiamo dire che si sta riprendendo, il pubblico sta tornando veramente con grande entusiasmo. E siamo arrivati al penultimo appuntamento con le grandi musiche, colonne sonore dal film. Sì, domenica prossima abbiamo proprio questa serata che come ospite è l'Orth Attack, un ensemble orchestrale dell'orchestra della Toscana, molto importante, e ci aglieteranno proprio nella serata con musiche di autori che hanno reso famose le colonne sonore del cinema. da Ennio Morricone a Piovani a Bernstein, eccetera. Infine, chiusura della Rassegna 2022, sabato 10 settembre, con la musica dell'organo Vincenzo Colonna.